Ciao amici di YouTube, in questo periodo si parla molto di obiettivi e giustamente voi avete già definito i vostri? A volte non raggiungiamo gli obiettivi che ci prefissiamo e sapete perché? Non perché non siamo in grado di farlo ma perché non sono quelli giusti. Guarda che sei forte Simona, ma come facciamo a sapere quali sono gli obiettivi giusti per noi finché non li realizziamo? Aspetta, in questo video vi descriverò la strategia per capire come definire gli obiettivi davvero giusti. Come dico spesso nei miei eventi e corsi, noi occidentali nonostante tutta la nostra scienza e tecnologia, viviamo dominati sapete da cosa? Ve lo dico io, viviamo dominati dal caso e non dalla consapevolezza. Ci avete mai pensato? Se ci lasciamo vivere senza definire i nostri obiettivi siamo in preda al caso. Se scegliamo il cibo anche in base al gusto e non alle esigenze nutrizionali, se ci fa bene o male diventa un caso. Noi abbiamo perso il controllo su questi aspetti vitali. Molte persone non definiscono chiaramente gli obiettivi della loro vita e si lasciano vivere, portate dagli eventi, dal caso. Pensano che per vivere con soddisfazione, cioè come sognano di vivere, debba arrivare un colpo di fortuna. Mentre la fortuna passava di lì, per caso li ha scelti. Ma dai Simona, sappiamo tutti che non funziona così. Appunto, vi chiedo, non avete mai pensato che forse è indispensabile definire gli obiettivi nella vita? Beh no, io vivo e basta, ed è già abbastanza. Ai ai. Oppure vi sentite incastrati in un flusso esistenziale da cui non immaginate di poter riuscire con le vostre forze? Ma infatti non è possibile casa, lavoro, famiglia e che altri obiettivi posso avere? O forse volete definire i vostri obiettivi ma non sapete da dove cominciare? In effetti non saprei che obiettivi pormi. Se ci penso mi viene in mente tutto e niente. Bene, questo video allora fa proprio per voi. E anche se siete esperti di obiettivi e sapete benissimo come procedere? Voglio stupirvi con questo video. Vediamo se ci riesco. In realtà voglio ridefinire la questione degli obiettivi, ma sapete perché? Perché va rivisto l'approccio. Sì, la cosa più difficile non è come realizzare gli obiettivi. Ci sono un sacco di libri o video che spiegano come fare. Bisogna essere determinati, bisogna avere disciplina, bisogna alzarsi presto alla mattina, bisogna essere costanti, bisogna lavorarci tutti i giorni alla stessa ora. Insomma, bisogna fare tutte le cose che spesso non riusciamo a fare con costanza. Per me la cosa più importante e non scontata è capire come arrivare a definire i propri obiettivi, capire con quale criterio sceglierli. Vieni al dunque Simona, dici come si fa. Ecco la mia formula, vedrete che vi stupirà. Ricapitoliamo. Normalmente per fare la lista degli obiettivi pensiamo a quello che desideriamo avere, ottenere, raggiungere, sperimentare al di fuori di noi. Tutto quello che è esterno, come si può ottenere, si può anche perdere. Non è mai nostro per sempre. Rincorriamo qualcosa che si sposta sempre in avanti e noi stiamo dietro, sempre dietro. Ecco perché è così difficile migliorarsi costantemente. Ma se dici così, Simona, non c'è via di scampo. Come possiamo rovesciare questa situazione? E cosa c'entra con gli obiettivi? C'entra è come. Prima di definire gli obiettivi dobbiamo, per un attimo, smettere di rincorrere le cose esterne e fermarci a definire un'altra cosa. Dobbiamo avere chiaro come vogliamo sentirci dentro di noi. La chiarezza su come vogliamo stare dentro ci permetterà di compilare la giusta lista degli obiettivi. Oh, ma davvero? Non ci avevo mai pensato. In realtà, tutte le aspirazioni e gli obiettivi esterni sono sempre motivati dal desiderio di sentirci in un certo modo dentro di noi. È semplice, ma così cambia la prospettiva, vero? Quindi non definite i vostri obiettivi se non avete chiaro quali sono i sentimenti che volete vivere quando li ottenete e anche mentre lavorate, mentre vi impegnate per raggiungerli. Alla fine siamo guidati sempre dai sentimenti, anche nell'inconscio. Molte persone hanno raggiunto le vette del successo per sentirsi forti e degni di rispetto. Molti desiderano una bella casa per provare quel senso di pace e sicurezza che gli è mancato da bambini. Anche il desiderio di essere ricchi non è necessariamente venale se ci si vuole sentire al sicuro e rispettabili. Anzi, la salute e l'abbondanza io le metto insieme nei miei corsi per ottenere la salute globale. Pensateci bene, è questo che ci motiva. Come volete sentirvi quando vi vestite alla mattina davanti allo specchio? Quando entrate in ufficio o nel vostro spazio di lavoro? Quando guardate la vostra agenda con gli appuntamenti? Quando fate un acquisto che avete desiderato fare da tempo, grande o piccolo che sia? Quando tornate a casa? Come volete sentirvi dentro? Da qui deve nascere la definizione degli obiettivi. Sapere come vogliamo sentirci porta ad avere la chiarezza per agire e ottenere ciò che vogliamo in accordo e in sintonia con i sentimenti che intendiamo provare. Se ci poniamo obiettivi senza chiederci se rispettano la nostra integrità, corriamo il rischio di tradire noi stessi pur di realizzarli. Invece, se partiamo dal sentire profondo e arriviamo agli obiettivi, restiamo aderenti alla nostra vera natura. Ricordate che, come ho spiegato in questo video, lo scopo di definire gli obiettivi non è solo raggiungere il risultato finale, ma anche diventare delle persone migliori mentre ci impegniamo a raggiungerli. Alla fine, il desiderio profondo di tutti è quello di sentirsi bene e stare bene nei propri panni. A questo punto, provate a usare subito questo approccio che ho voluto condividere con voi e vedrete che i vostri obiettivi saranno più chiari e vi daranno la soddisfazione che avete sempre sognato. Vi è piaciuto questo video? A me sì. E allora mettete un bel mi piace. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E aiutate anche i vostri amici a decidere di definire gli obiettivi. Condividete questo video con loro e sui vostri social. E per vedere tanti altri video sul miglioramento personale, basta iscriversi al mio canale con un click, così, e attivate le notifiche. E noi ci vediamo al prossimo video, naturalmente. Ciao!